Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Con queste parole il Premier Giuseppe Conte ha annunciato ieri le misure più stringenti che tutti i cittadini devono rispettare da nord a sud per contrastare l'avanzata del coronavirus. Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini, ha detto Conte, ma non abbiamo più tempo, c'è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. Quindi dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia e lo dobbiamo fare subito. Il provvedimento che il Premier ha firmato è entrato in vigore da oggi. Il decreto chiamato Io resto a casa prevede tra l'altro un divieto di assembramento in luoghi al chiuso e all'aperto in tutta Italia, spostamenti possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute, lo stop delle scuole fino al 3 aprile e quello di tutte le manifestazioni sportive. Le strade a Fano stamane erano semideserte, parcheggi vuoti, una città ferma alle nuove disposizioni emanate dal decreto per fronteggiare l'emergenza, pattuglie di polizia diffuse nel territorio per effettuare i controlli sugli spostamenti. Secondo il decreto sarà possibile l'autocertificazione per la giustificazione degli spostamenti delle persone fisiche, che può avvenire soltanto per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Al contrario c'è l'obbligo di restare nella propria abitazione. Resta comunque il divieto assoluto a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus. Il modulo, come già pubblicato dal Ministero dell'Interno, deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato dal dichiarante e consegnato all'operatore di polizia addetto al controllo. Non è all'ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare. Le sanzioni per coloro che non rispetta il decreto può essere punito con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale sull'inosservanza di un provvedimento delle autorità. Ma pene più gravi possono essere la fuga della quarantena per i positivi che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica. Il Comune di Fano ha istituito inoltre anche un numero verde 8000 94141 per coloro che vogliono denunciare situazioni pericolose. Grazie.